bello a tutti ragazzi sono white bentornati in questo nuovo video oggi ragazzi siamo in un porto molto conosciuto ovvero nella nostra vanilla mia e di babagod e questo è uno speciale dei 60 iscritti ragazzi non so come ma in un giorno tipo in due giorni ieri ho fatto 50 iscritti oggi ne ho fatto 60 quindi oggi siamo nello speciale ragazzi oggi io volevo solo ringraziare di avermi fatto arrivare a questo tipo vi ricordo non dici iscrivetevi ma iscrivetevi e basta vero lasciate like a questo video e rilancio una sfida chi commenta chi commenta in questo video e lascia like avrà un codicino da parte ragazzi questo è un traguardo che io non mi aspettavo perché io al massimo mi aspettavo i 40 non i 50 60 ragazzi ragazzi dobbiamo arrivare a 100 iscritti cioè io voglio fare questo traguardo ma ve lo faccio vedere quindi è arrivato a 100 iscritti a 100 sab road 100 sab 800 ora ragazzi ogni iscritto che si iscriverà e lascerà un commento io lo saluterò io voglio avere questo anche i mille dopo aver avuto questo voglio anche questo cioè voglio che arriviamo un po gli altri agli altri 800 200 questo e qua ragazzi mi tingero i capelli di bianco bellissimo sta cosa tu hai mille iscritti cosa farai ti tingi di che colore i capelli faccio un tatuaggio a fuoco no no mi disse no non fanno male i tatuaggi lo so che non importa che significa farsi un tatuaggio però dai un tatuaggio di una foca è molto una persona si fa il tatuaggio del tuo canale i mille iscritti forse ragazzi questo era un video che è finito in questo preciso momento ragazzi vi ricordo di iscrivermi e farmi arrivare il mio più grande traguardo io ragazzi il mio più grande traguardo che voglio raggiungere è avere uno youtube play button almeno avere un centesimo che non mi paga youtube se ho pochi iscritti quindi ragazzi ricordatevi guardate i miei video e lasciate like almeno fatemi avere un centesimo così almeno posso essere felice e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao il prossimo video lo farò oggi ciao ciao